Dal cantico dei cantici Come sei bella mia, come sei bella Gli occhi tuoi sono colombe dietro il tuo velo Le tue chiome sono un greggio di capre Che scendono dalle pendici del Galad I tuoi denti come un greggio di pecore tosate Che risalvono dal bagno Tutte procedono appaiate e nessuna è senza compagna Come un nastro di porpora le tue labbra E la tua bocca è soffusa di grazia Come spicchio di melagrano la tua gota attraverso il tuo velo Come la torre di Davide il tuo collo Costruita a guisa di fortezza Mille scudi vi sono appesi Tutte armature di brodi I tuoi seni sono come due cerpiatti Gemelli di una gazzetta Che pascolano fra i gigli Prima che spiri la brezza del giorno E si allunghino le ombre Me ne andrò al monte della mirra E alla coltina dell'incenso Tutta bella tu sei amica mia In te nessuna maglia Vieni con me dal Libano O sposa Con me dal Libano vieni O serva Dalla cima dell'Armana Dalla cima del Senir E dell'Ermo Dalle tane dei leoni Dai monti dei luparti Tu mi hai rapito il cuore Sorella mia sposa Tu mi hai rapito il cuore Con un solo tuo sguardo Con una perla sola Della tua collina Quanto sono soavi Le tue carenze Sorella mia sposa Quanto più deliziose Del vino Le tue carenze L'odore dei tuoi profumi Sorpassa tutti gli aromi Le tue labbra stillano Mieli vergine O sposa C'è miele e latte Sotto la tua lingua E il profumo delle tue vesti E' come il profumo del Libano Giardino chiuso Tu sei sorella mia sposa Giardino chiuso Fontana sigillata Siamo dato adorato E' ringraziato Ogni momento E' stato E' stato E' stato E' stato E' stato E' stato Commentare questo brano E' quasi Impossibile Perché questo è Il racconto di amore Del Signore Nei confronti Della sua sposa Anzitutto Con Tutta la tradizione Della Chiesa Qui sono nascoste C'era Anche attraverso Immagini Molto belle Umane Con il cuore Gli occhi I denti Le gode E' l'altra La bocca Tutti i misteri Della straordinaria bellezza Di Maria Santissima Avremo certamente Colto in questo brano Alcune Espressioni Che la chiede Attribuisce Per esempio Tutta bella Tu sei Mia Sono macchini Che dà il titolo Anche a questa meditazione Da cui deriva Il canto Del totapu Che per quanto in latino Significa Tutta bella E' chiaro che dietro Queste descrizioni Di bellezza Femminile Esteriore Perfezione Esteriore Che pur la Madonna Certamente aveva Perché è la creatura Perfetta Come Gesù E' cantato Dalla Sacra Scrittura Come il più bello Delle figlie Degli uomini Ed è realmente Un uomo più bello Che sia mai esistito Certamente Era una donna Una donna più bella Che sia mai esistita Non c'è nessun dubbio Insomma Su questo Ecco Il problema E' che la sua bellezza Esteriore E' nulla Pur essendo Straordinaria In confronto La sua bellezza Interiore E molti autori Spirituali Hanno fatto a gara Nel leggere Allegoricamente Questi Queste lodi Delle grazie Esteriori Di Maria Cercando di comprendere A quali Ricchezze Interiori Allegoricamente Alludessero Ci sono altre Espressioni La devozione Mariana Ha fatto prove C'è una Della Lauretania Che dice Torre di Davide No? O fortezze Inespugnate Abbiamo sentito Qui dire Come la torre di Davide È il tuo corpo Costruita Quisa di fortezze Ecco Significa La potenza Invincibile Che ha la Madonna La Madonna È vittoriosa C'è stato verso Di espugnare La roccaforta Della sua anima E la Madonna È anche Valuando Invincibile Per chiunque Le sia il figlio In qualunque situazioni non ci trovassimo Di difficoltà Di prova Di guai Di momenti difficili Affidarsi veramente Con tutto il cuore La Madonna E mettersi a riparare Una fortezza Invincibile Se la Madonna Dice A questo mio figlio Mi deve accadere nulla Si può scatenare l'otto In tutto l'inferno Ma non mi cade nulla Questo Ovviamente È certo Ed è molto bello Amere Questa Percezione Profonda Interiore È bellissimo Ascoltare frasi Come queste Verissime Tu mi hai rapito Il cuore Sulla mia sposa Tu mi hai rapito Il cuore Con un solo Tuo sguardo Con una perla Sulla Della tua collana Quindi interpreti La perla Della collana La identificano Con una Delle tantissime Virtù Della Madonna E Contemplando Maria E Noi Contempliamo La creatura Che ha rapito Il cuore Di Dio Non per scherzo Ma sul serio Cioè Dio È innamorato Veramente Ma Come Come Più Del più grande Innamorato Terreno Della più grande Bella Persona Che ci fosse Esistere Insomma Tu mi hai rapito Il cuore Sulla mia sposa Con un solo Tuo sguardo Ma una perla Sulla Della 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 Maestra Di spirito Che Dio In tutto L'universo Ha fatto Una creatura Perfettissima Degna Di lui Si era fatta Quasi solo Per sempre Questo Quella Chiamano Giardino Chiuso Adesso vedremo In termini Cosa dicono Di questa Sessione Giardino Chiuso Il matino Eortus Conclusus Fontana Sigillata Una bellezza Talmente grande Talmente divina Che era appunto Degna Era appunto Degna Di un Dio Che la Madonna Si è degna Di Dio Non sono esagerazioni Proprie Come dire Di qualche anima Devotea Ma Dio l'ha dimostrato Perché In questi giorni Di Natale Noi contempliamo Gesù Il bambino In braccio La Madonna Ha attaccato Il suo seno Quindi Quindi Contempliamo veramente Gesù Che è tutto Di Maria E prima di essere stato Tutto di Maria È tutto Da Maria Figlio del Padre Secondo la natura divina È veramente Figlio della Madre Secondo La natura Umana I maestri di Spirito Dicono Che appunto La Madonna È giardino chiuso Che significa Quest'espressione Ecco Tutte quante Le bellezze Le ricchezze Della Madonna Dio le ha Anzitutto Riservate per sé E Le anime Che sono veramente Devote di Maria Che veramente Lo vogliono bene Che accorgono Questo dono Misterioso Perché già è un grande mistero Per noi Nostro Signore Gesù Cristo Conoscerlo E comprenderlo Un pochino Perché la nostra miseria È grande La nostra Debolezza È grande La nostra Porta Come dire Terrestrità In bruttissimo termine Non so come esprimono È grande Ci rende Un pochino Incapace Di comprendere Le bellezze Del cielo E Le cose Dello spirito Quindi Con Maria Questa è ancora Un pochino Più difficile Anche perché Maria noi sappiamo Che è una pura creatura Quindi Può Come dire Essere un pochino Sottovalutata Se si passa questa espressione Perché Sì È una creatura Solutamente molto santa Ma è sempre una creatura No? Sì È una creatura Ma è una creatura Che Dio stesso Ha fatto Come dire Nuova capostimiche Della nuova creazione Perché è la nuova Eva È la più eccellente Tra le creature È stata coronata Di sopra Degli angeli Dei santi Quindi È la prima dopo Dio Quindi non è Una tra le tante Ed è anche Come la Chiesa ci insegna La mediatrice delle grazie Quella che ci ha dato Gesù E la nostra avvocata E Ecco lei Che prega per noi Ecco lei che ci tiene La benevolenza Dell'Altissimo È tanto Ecco È anche molto di più Ecco Per molto di più San Luigi Monfort Riprende questa espressione Nell'orto sconcluso Un giardino chiuso E il Signore Apre questo giardino Alle anime Che veramente Piano piano Cominciano a nutrire Una vera devozione Verso la Madonna Una devozione Che non è fatta Soltanto di affetti E di preghiere Ma è fatta anche Di una conoscenza Sempre maggiore Di lei Delle sue virtù Insieme alla conoscenza Di un'imitazione Sempre maggiore Delle sue virtù E del suo stile Che sono identici Sbiccicati A quelli di Gesù Se uno lo vuole Aggiungersi In qualche cosa Di particolare Come dire Ammantati Di quella bellissima Patina di femminilità Che la Madonna Dà a tutte le virtù Quindi Se vogliamo Parapasare un po' Papa Francesco Che parla sempre Di queste cose Quella grandissima Tenerezza E dolcezza Che caratterizza Particolarmente Poi le anime Mariane No? Abbiamo sentito Quell'espressione E Le tue labbra Stillano miele Vergine o sposa C'è miele Sotto la tua lingua Miele È Il simbolo Proprio Della Straordinaria Dolcezza No? Quindi Se vogliamo Un'anima Gesù Certamente è dolcissimo Abbiamo cantato Durante La novena di Natale Gesù dolci Smemoria No? Gesù dolce Alla memoria Quanto sei dolce E soave Eh Madonna Essendo donna Aggiunge proprio Questo tratto Caratteristico E Quando il Papa Tante volte Dice a tutta la Chiesa Che è importante Che riscopra La propria Dimensione Femminile Eccetera Eccetera Sicuramente Fa riferimento Come diversi autori Ma fa riferimento A quest'anno Come dire Prospettiva Decisamente Mariana Che rende La vita cristiana Ancora più bella Sotto certi aspetti Perché La arricchisce Di quella Tinta Di dolcezza Di venerezza E di Potremmo dire Sul plus di amore Che ordinariamente Non ha Oggi La festa di San Giovanni Gesù Una Madonna L'ha affidata a San Giovanni E evangelista Tra i topodi Ancora di affidarlo A chiunque altro E San Giovanni Casualmente È l'apostolo Del amore Noi sappiamo Che San Giovanni Ha iniziato La sua attività Postolica Dopo Beato lui Circa 25 anni Di vita Con la Madonna Sono tanti Cioè Gesù San Giovanni È stato con la Madonna Quasi tanto tempo Quanto c'è stato Gesù Durante la vita Nascosta E quante cose Ha imparato Andrino 25 anni E ha imparato Soprattutto Quello che poi Ha tirato fuori I suoi scritti San Giovanni È rappresentato Dall'Aquila Dalla sua Enorme sapiezza E conoscenza Profonda Del mistero Di Dio Ma è anche La postura Dell'amore Colui che Più degli altri Ha compreso Quanto la via Dell'amore Sia la via Assoluta Se così vogliamo dire Per Conoscere E vivere Dio Ecco Noi dobbiamo Chiedere al Signore Adesso dal nostro silenzio Nel nostro Torriera Che possiamo Imparare La vita C'è la scuola Di Maria Anche perché Maria ci insegna Anche Ad essere Anime Innamorate di Gesù Perché il segreto Della grandezza Di Maria È stato questo Suo amore Sconfinato Ecco Non comprensibile Neanche Impedibile Da noi esseri umani Che ha avuto Nel fronte Del Signore Che ha fatto Di lei Quello che è Ecco Chiediamo a Gesù Che ci do La grazia Di conoscere Sempre più E sempre meglio Questa straordinaria Creatura E a lei A sua volta Chiediamole Che ci insegna Ad amare Sempre più E sempre meglio Il nostro Unico Dio Signore È Salvatore Gesù Siamo Adorato Adorato Ringraziato Ogni momento Santissimo E Santissimo